Allora, qui ci sono molte teorie a livello di zona. Inizialmente si diceva, visto che il tutto è incominciato nella zona di Gallipoli, Gallipoli, Galatone, quelle zone di Insom, si è pensato che fosse stato fatto apposta dalla gente del luogo perché si dice o si diceva che quelle zone erano interessate per edificare, per fare hotel, in modo che il turismo, cosa che poi invece scientificamente è stata provata, non è stata procurata dall'uomo, ma è una cosa naturale. Come è arrivato qui nel Basso Salento si presume, si dice sempre, che essendo proprio in quella zona, essendoci molti vivai, dato che probabilmente i controlli delle importazioni di questi alberi non sia stata proprio al 100%, allora questo batterio è entrato attraverso questi vivai, poi essendo reimpiantati nelle nostre zone, le conseguenze sono queste.